Allora, Nicolò Barabino dell'Alda Cri, il capo cannoniere di questo torneo, commentaci tutti i gol che hai fatto e tutto questo bel torneo vostro. Sono sicuramente tanti che non me ne ricordo neanche più. Ma vabbè, a parte questo, devo ringraziare tutti i miei compagni di squadra per avermi aiutato a realizzare questo trofeo e a vincere il torneo. Ci siamo divertiti, è stato tutto bello e siamo una bella squadra, un bel gruppo anche di amici, che è ancora meglio giocare con gli amici. Fammi un po' vedere il premio. Bello, lo lasciamo da oggi stasera. Complimenti a te e a tutta la tua squadra. Grazie mille.